Sì, vabbè, ma piano se... Eh, vabbè, Dario! Caccaio, da quelle ci sento roba. Sì, sì, sì. Questa si abbassa il secco. Beh, talprima va a farvi vedere appunto una roba che non ha mai visto. Caccaio, da quelle ci sento roba. Caccaio, da quelle ci sento roba. Beh, talprima va a farvi vedere appunto una roba che non ha mai visto. Beh, non giochi fuori nel cazzo Mario. No. Ci senti da niente, ci senti da niente. Non mi spiegare. Caccaio, da quelle ci sento roba. Cos'è l'immito? Noo, non sopode. Noo, non sopode. Non sopode. Ci senti da niente! Cos'è l'immito? E hai te buttato fuori da me. E mai te metto nel mio cano? No, ah, 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 ah Mario. Diretti. Usa l'immito? Cos'è l'immito? DI MAMO CHCE A MAMO Di MAMO CHCE A FUNTO DI MAMO CHCE A FUNTO DI MAMO CHCE A FUNTO DI MAMO CHCE PORI DEL CASO fuori dal caso Mario nooo, non c'è Pol no a Mario direi nooo, non c'è Pol tu mi metti il buco fuori dal gruppo tu hai metto il mio strano non c'è Pol non c'è Pol vabbè su immagini però mi stanno non c'è Pol non c'è Pol vai su immagini vabbè su immagini però mi stanno vabbè sul immagini però mi stanno non c'è Pol il modello del gruppo vabbè sul immagini però mi stanno vabbè sul immagini però mi stanno vabbè sul immagini però mi stanno fuori dal caso Mario Aspetta, la prima volta che vedo è una roba che non l'ho mai vista. A Mario. A Mario. A Mario. A Mario. Vabbè, su immagini però mi stanno. Ma prima. A Mario. A Mario. A Mario. A Mario. Lo proprio rimuovi. Fuori nel caso, Mario. Beh, non ciò di rimuovire il punto. Fuori nel caso, Mario. Per un po' che bià, fuori del cazzo! Non ce ne ho cinso fondo di te.... Non ci ho capito quello del cabinets? Non ci sono dite quello del basket? Versa++々 Aspetta prima la faccio vedere la pona roba che non ha mai visto Sì, sì, sì Aspetta prima la faccio vedere la pona roba che non ha mai visto Va bene, immagini però me stanno La pona roba che non ha mai visto Adesso perché è riuscito a rinforzare? Sì, non è legato, 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 non è legato Sì, non è legato Sì, mi diceci Sì, mi diceci Aspetta prima la faccio vedere la pona roba che non ha mai visto Fuori nel caso, fuori nel caso, fuori nel caso Mario Beh, annuncio che fuori nel caso Mario Grazie